...che sono in piazza ad entrare in Basilica saranno i malati, poi tutti coloro che vorranno recarsi a pregare presso la reliquia di Giovanni Paolo II lo potranno fare anche durante il resto del giorno e della notte, seguendo il percorso che si trova a destra della cacciata della Basilica. La mass di beatificazione di Paolo John Paolo II è ora finita, i suoi coloni Paolo Benedict XVI e Sardinari saranno i primi a venerare i morti e i morti e i morti i morti e 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 i morti. M show Lo ... ... e la delegazione ufficiale leggera e leggera del governo. Poi le altre delegazioni ufficiale 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 entrare la Basilica, facendo il suo esito a través della Porta della Preghiera e della Porta del Perugino. I ambassadori e il diplomatico e il formato dei persone, a portare il termine, e immediatamente attraverso, le autorità di instituzione presenta in aria da Stato di San Juan. Poi, i archbisogs presenti in fronte della Basilica saranno in posizione. I membri della paese di St Peter's Square i nostri amici che la Basilica sarà la Sittà. Poi, tutti quelli che vogliono prezare con il relico di St Paul II hanno fatto così durante il rimanere del giorno e l'avere. La messe di beatificazione di Paolo II è terminata. Ora, i St Peter's Penoises e i Cardini saranno i primi a venire la depurazione di nuovo benevoli che è assortata di un rilevore. Le persone presenti sono invitati a avere un po' di lavoro e un demore un po' di lavoro.